Il risultato finale a Maschile, il conto tra il Cassano Magliano e il Plessano. Plessano, numero 26, Franceschini Martina, 22, Marlano Massano. Plessano, numero 26, Franceschini Martina, 22, Marlano Massano, numero 26, Franceschini Martina, 16, San Paolo Valerio, 10, Martina Mosale, 27, Alessio, 12, Franceschini Martina, 35, Caporetti Danie, allenatore, signori Dio Fabrizio, Casano Bellago, numero 1, Inicinima, 2, 12, Imi, 6, Loretto Alessio, 7, Alessio, 7, Alessio, 10, Alessio, 11, San Paolo, 16, Colessino Alessio, 10, Alessio, 12, Alessio, 22, Alessio, 23, Alessio, 15, Marlano, e il Dio Fabrizio, 16, Alessio, 18, Alessio, 18, Maurizio, 17, Alessio, 17, Alessio, 19, Alessio, e pil origins. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.